INCAPACE DI FARE IL TUO LAVORO CICCIO GAMER CHE CAZZO SPOILERI LA PELATA SU IN TUMNail MA SE TU SCRIVI PELATE DEGLI YOUTUBER PIU FAMOSI DI SEMPRE CI HANNO TUTTI LA TUMNail COL PIXELATA DA JASTRON A ME A CHIUNQUE ALTRO CHE CAZZO LA METTI IN TUMNail GRAVE ERRORE GRAVISSIMO ERRORE HO MESSO IL PIXEL PURE QUANDO ME SO TTAGLIATO ELEGO VOGLIO VEDE CICCIO GAMER PELATO MA VALE TUTTO IL VIDEO VALE LA PENA VEDESSE MAI 20.571 QUESTO E' IL NUMERO UFFICIALE CHE ABBIAMO DATO AL NOSTRO RECORD RIGA MA HA SBAIATO HA DETTO 20.000 INVICE CHE 120 20.571 QUESTO E' IL NUMERO UFFICIALE CHE ABBIAMO DATO AL NOSTRO RECORD PERSONAL MA IL RECORD TUO MA IL RECORD TUO E' UN GRANDE RECORD E' SBAGLI IL NUMERO HA TAGLIATO IL CENTO DEL VEDEO MA CHE FA MA PERCHE MA COMA FA DI UTENTI TUTTI CONNESSI INSIEME IN UNA SINGOLA LIVE MERDA RIGAZI SE SA IO NON HO VISTO CICCIO GRIMER CHE PIANGE COMUNQUE O VA A VEDER QUA UNA SCOPPIATA DI PIANTA DAI FA MA 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 VITAR VOLANTE ALMENO FINALMENTE POSSO NON SKIPPARE I TIKTOK DELLE PERSONE CHE HANNO FATTO TIPO IO SONO UN VERO PAGURO CON IL VIDEO DI CICCIO GRIMER MENTRE PIANGE CHE LO RIVERE SI RIPRENDANO NOVANTAMILA LA PELATA STA SA VICINA Dio rega ma tu manca poco rega Rega 90.000 rega mi mancano 10.000 Qua si era dimenticato la cipolla caramellata nel carbonaro Si era di metanaggia alla madonna E come cazzo faccio io adesso Lesgo bello Lesgo dei 100.000 bello Ma Lesgoski 1000X Signori ve lo vedrete pelato Sicuramente Michele vi avrà fatto vedere alcuni spezzoni E' stata Sto video è tutto strano Inizia con un edit di ciccio gamer che si muoverà a rallenti Poi sbaglia il numero del suo stesso record E poi cambia i volumi della musica E li mette altissimi alle volte E alle volte sono bassissimi Ma chi cazzo l'edita Lollo lacustre in chat Lollo lacustre mi hai rotto i coglioni Non ce la faccio più C'ho solo i tuoi tiktok Provati un ragazzo gamer Non ti tradirà mai E poi con quelle mani lunghe 6 metri Che si mette a giocare a Fortnite Basta Basta Non ce la faccio più Basta Fatti ribannare l'account No non te lo fa ribannare Poi mi becco altri 6 minuti di video in un altro account Che per qualche motivo ti va Nei per te fai 300.000 like Basta Basta Però aspetta è venuto a scrivere una cosa brava Giusta in chat Mi fa sapere di un nuovo dissing Les Gonsky contro King del Vintage Manda il link Cioè te vieni qua Butti la pietra E nascondi la mano Manda subito il link Manda Ha un'emozione incredibile Ma adesso è arrivato il momento Di Mantenere Mi ha promessa Ciccio chiamano 89 Ma più stavo tenendo Ti farà pelato Ma Senti io tutto il video non muo Ma chi lo pela? No raga Lo riconoscerei fra mille Il braccio di Alex Theory Eh sì È il braccio di Alex Theory Do sta fammelo Porco Dio guardalo Sembra coso Sembra 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 Quello lì che ogni volta Vi ricordo che gli ho fatto una busta Quando giocavamo nella Romulea Come cazzo si chiama il calciatore? No ma che Johnny Sins Ma che Non gattuso Babbi di minchia Non De Zerbi De Silvestri È uguale a De Silvestri De buoni e cattivi No sono diventato un incattivo Un cattivo No devi diventare Dion Ciccio Amore Ma si fa Si fa proprio la lametta Si fa La tua esistenza No io mi potrei sentire male Adesso si Adesso ti senti male Ciao c'è un mancamento Tostesana Che nessuno dica Che qui le promesse Non le manteniamo Nessuno Impossibile Ah perché la gente pensava Che non mi facessi pelato Capito Ah 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 Ma basta, ma non è possibile E di amore, quando vuoi Io metto questa E abbiamo Frate, è letteralmente la persona che sta meglio con la pelata Che io abbia visto negli ultimi dieci anni della mia vita Ah sì, ma c'ha una forma di capoccia che non ha senso ed esiste Porco Dio Ma ci sta benissimo Ma benissimo No Surreal Power e Mr. Rip ti spiegano perché dovresti fare questo nuovo Questo nuovo Questa nuova spesa nei confronti di questo palazzo a Milano di 380 mila euro Con il quale guadagnerai un milione e mezzo di euro entro sei anni Non è possibile, frate Adesso Ciccio Comer si mette anche a vendere criptovalute Aiuto Oddio Sono perfetti Sono perfetti, però la capi c'ha Però la camicia, la camicia Ciccio pelato devi vedertelo La camicia Ciccio la camicia Sono perfetti Non sembri manco tu Quindi che dire Mi sa che abbiamo mantenuto la promessa Raga grazie mille per la fantastica opportunità che mi avete dato di farmi pelato Veramente Tu mi stai dicendo che Alex Tiori non si è spammato le gallette in questo video No, eccole Eccole, eccole, eccolo, lo sapevo Quanto è bello quando mi portano le confezioni a me Senza sì Questo è top secret ragazzi Ma che fai porco Dio Oggi se comprate otto gallette di Alex Tiori Vi regalo una station wagon Scusa Alex, guarda Non possiamo veramente farlo Ti regalo tutto il mio conto bancario Ciccio Gamer è letteralmente un misto tra Francesco Marzano Surreal Power La barba di Danny Lazzarin E E mi sa che invece qui devo fare delle scuse Qui io devo delle scuse a una persona E quella persona la vedete sulla sinistra di Ciccio Gamer Io devo fare delle scuse a uomo pelata strana grigia Allora uomo pelata Voi come sapete io ho collaborato un mese con Alex Tiori E' anche dispiaciuto smettere di collaborare Perché come avete visto avevo preso 5 kg mangiando le gallette ogni Non lo so Ogni 10 minuti in stream Poi però mi sono trasferito Era diventato un po' complicato eccetera eccetera Però io questo ragazzo l'ho portato in uno dei ristoranti più costosi di Roma Quando dovevamo parlare un pochino della collaborazione Lui ha pagato tutto il pranzo E poi la collaborazione è durata un mese Quindi io mi volevo scusare con un uomo pelata grigia Perché sì Sono stato un po' Un po' così Però là il pranzo era veramente ottimo Guarda come si mangia E poi che ti fa? E poi ti fa avambraccio del Ciccio Gamer E non solo Certo Mazzacalettoni eh Che poi non posso più parlare Io con sta cosa nuova mi sono scoperto pure io Che ho gli alettoni Mamma mia Però frate ma quanto cazzo ci sta bene con la pelata? Comunque c'ha una forma di testa Ciccio Gamer Che penso sia la forma di testa migliore di sempre Cioè ammazza Cioè Porca troppo Certo porco Dio l'hanno ucciso L'ha massacrato Gli ha tagliati i capelli Gli ha tagliati il K Gli ha tagliati Cristo santo Ci sta bene però Ci sta bene Però si farà ricresce Perché pure Ciccio gli sta dietro ai capelli No lo ha d'occhiato Gli ha tagliati i capelli